Allora alcuni sono arrivati con quei due battelli lì che vedete che li stanno trasbordando a terra ma noi molto più uomini veri ci siamo fatti la scarpinata di due chilometri e mezzo e i sette chilometri che si diceva prima con la macchina però diciamo che la meta ripaga se dovete venirci veniteci in battello la metterò sullo mio desktop questa eco franco che si guarda un po' attorno chiudo